Pubblicato il bando di concorso per l'Accademia della Guardia di Finanza, il percorso di studi rivolto a ragazzi e ragazze tra i 17 e i 22 anni di età, diplomati o in attesa di conseguire la maturità nell'anno scolastico in corso, è articolato su 5 anni, al termine dei quali i giovani tenenti saranno assegnati ai reparti operativi del corpo. Il concorso in Accademia consente di poter accedere al più alto istituto di formazione della Guardia di Finanza, un percorso che culmina dopo 5 anni trascorsi in Accademia a Bergamo nel conseguimento della laurea in giurisprudenza. Ciò permetterà di poter ricoprire con il grado di tenente subito incarichi operativi che consentiranno di poter mettere a frutto il percorso di formazione militare e tecnico-professionale che i ragazzi avranno la possibilità di seguire presso l'Accademia. Il tenente vitale è uscito dall'Accademia sei mesi fa. L'Accademia mi ha formato soprattutto per quanto riguarda le relazioni che ho con l'esterno, perché da giovane tenente è normale che io mi interfacci con varie autorità, quali la Procura della Repubblica o la Procura della Corte dei Conti, l'Agenzia delle Entrate. Il tenente Donise, 26 anni, comanda il nucleo operativo del gruppo di Viareggio. Nel mio incarico sostanzialmente ogni giorno gestisco circa 40 persone e gestisco tutti i compiti dell'Istituto della Guardia di Finanza. Ogni giorno mi interfaccio con attività di controlli fiscali, gli attualissimi controlli dei prezzi carburanti, controlli antiriciclaggio, attività di polizia economico-finanziaria e polizia in particolare giudiziaria. Il termine per presentare le domande è fissato alle 12 del 16 febbraio.